Difficilissimo, non mi con una build batta sul mio canale da anni Ah che figa andiamo a fatturare con lo snowman No, no si è spaccato raga ma è buggatissimo Clarissa do you want my, io, io potrei pensare cosa sia quei cosi lì Questa cosa cazzo è? Un'altra papera Bebebe ragazzi com'era che bentornati in questo mio nuovo video Oggi finalmente in un nuovo episodio ragazzi Segui il batto per oggi sarà una sfida ragazzi perché avrò il mouse invertito Attenzione c'è l'f5 intanto sballatissimo Però ragazzi iniziamo subito Allora come vedrete io piazzerò i blocchi con il sinistro Spaccherò col destro, così col destro, con una roba del genere ragazzi Cosa è uscito? Snowman, oddio Lo stesso dell'altro giorno sarà una rivincita Allora già è ostiata come roba visto che ho il mouse spaccato Quindi allora la snow, dove cazzo è la mia snow? La mia snow è qua, ok Vediamo se è giusto come ho pensato prima No vedi, ok giusto Sarà un po' più ostiata del solito perché già ho il mouse rotto E quindi sarà una bestemmia unica Io direi iniziamo a farlo un po' più piccolo dell'altra volta Visto che l'altra volta Madonna quanti di bagni Inizia a piazzare i blocchi a caso ragazzi Provate allora Madonna Piazza con molta calma così Allora mi raccomando sotto nei commenti scrivetemi altre tipo Già è sbagliato perché non è simmetrico Madonna Difficilissimo Così ok Ok con calma ho fatto la base Minchia quanto tempo è già passato Comunque ragazzi è difficilissimo Vi assicuro provate a farla come sfida Perché all'inizio dovete farci un sacco l'abitudine Se ce la fate è Davvero vi verrò a stringere la mano ovunque voi vi trovate Ok facciamo una piccola base Qua Ok intanto Così Tac figa andiamo a fatturare con lo snowman Lo facciamo piccolo ma efficace Quindi scendi Madonna non devo spaccare Così È difficilissimo Minchia Stai cazzo di sfida che mi consigliate Ok allora vai 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 Avevamo tre minuti e cinque Che non ha senso Vai 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 Mi piacciono anche i blocchi a caos Ma caos Madonna non so neanche più parlare A caso sto cazzo di mao Ok Tac tac Figa Ci sia Allora poi facciamo ancora un altro strato Va bene Mi piace Mi piace Io oggi punto alla cazzo di vittoria ragazzi A me mi frega un cazzo Io non mi con una build batta sul mio canale da anni Aiuto Ok ok E poi io direi Saliamo dello strato Qua Così Ci sta Ci sta Ci sta Sì Vediamo Vediamo se ci sta Ci sta un botto Rega ci sta Ci sta Allora sali Gli facciamo un collo Va bene E da qua ci allarghiamo per la testa Quindi così Ormai ci ho fatto l'abitudine ragazzi Sono partito in feed Ok Ok Così Ok Questa qui è la La sua Faccia sproporzionatissima Fa cagare Via 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 Non va bene Non va affatto bene Non va per un cazzo bene Aspetta Se facciamo così Per un eventuale sciarpa Sì ci sta un botto Ragazzi ci sta un botto Così Così E poi devo uscire di uno qua Ok Ok Ormai ci ho preso la cazzo di mano Raga Ormai Minchia basta Lo gioco con il gioco Lo gioco per sempre col mouse A caso adesso Ok Così Poi È sbagliato C'è qualcosa di sbagliato Ma non capisco cosa Però ormai No no raga Fa cagadissima sta roba Perché c'è sto problemi A disegnare un cazzo di Di coso Enorme Teniamolo così Allora Mi serve la vul rossa Dov'è la vul rossa? Qua Dai Non mi fa selezionare le cose Allora mettiamo lì La sciarpa un po' qua A caso A random Ok Qua così Sciarpa rossa Perché figa raga Se non mi mette la sciarpa rossa Cazzo Che cazzo di Di pupazzo di neve È pupazzo di neve Figa Perfetto Ci siamo Ci siamo Con molta calma Ci siamo Poi Volevo fargli Ok Ok Alziamogli la testa Adesso Ancora di uno Ancora di uno Ok Ok Manca un minuto Manca un minuto Devo fargli ancora tutto quanto Il cappello Minchia raga Quanto cazzo Mi servono i particles Allora Qui Dove cazzo è No Non time Weather Non si può mettere snow No Palle Ci sta Mi serve Prendiamo una pull nera Raga Dove fargli frettissima Allora Però È senza braccia Manca un 30 secondi Dai Ok Qua Ok Poi cappello Cappello Casissimo raga Qua Mi serve No Non questo Mamma mia che skill Skillatissima raga Sono troppo 20 secondi per fare le braccia E il naso 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 Non con questa Dov'è la pull No Qua Ok Prendila Prendila L'ho presa L'ho presa Quanto manca 10 secondi 10 secondi Ma con calma No Ok Così Va bene Dai così Così Non gli sto facendo le braccia Farà cagare Farà cagare un bot È troppo lungo Ok Ok Così No No Si è spaccato raga Ma è bagatissimo No dai raga Fa cagare Non arrivo ultimo Non arrivo ultimo Ma come cazzo è fatto a fare sta cosa in pochissimo tempo Cioè in tantissimo tempo Che cazzo Che cazzo le ha fatte le mammele Le tette le ha fatto Che cazzo è Un pupazzineve con le tette No raga Quanto cazzo è figo questo No No raga Ci han distrutto Ci hanno distrutto Io voterei It's ok Solo per decenza Io punto a non arrivare ultimo No raga Che cazzo è sto coso Pupazzineve con la zucca Cioè è bella la roba Dei bottoni con le bedrock Però fa cagare Cioè dentro di sé Io metterei un meh Meh Perché mica Il mio raga è una bomba No La risa Do you want Ma io Potrei pensare Cosa sia Quei cosi lì Questo cosa cazzo è Un'altra papera Ma dai raga Per favore Io Io come minimo Punteria Varei al podio Come minimo Beh minchia Esplodi perché Boom Figa Eh Questo è una vera merda Ma ragazzi Ma allora O sono io che sono un architetto Nelle build battle Che cazzo disegnate Solo 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 esplosioni Esplode tutto Questo video Questo 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 è molto Molto figo Ragazzi Cioè figa Se non vinco Io sono Cioè Sei dei coglioni Non è Non è esploso Ragazzi Non è Esplos Che tenero Ma raga ma che cazzo Cioè ma davvero In quattro minuti Avete fatto sta merda Ma non c'è qualcosa Peggio di My Eyes Are Bleeding No Non c'è Questo che non esplode Come farne esplodere Come farne esplodere Ma raga ma raga ma raga ma che cazzo Ma ma fa cagare sto coso Pixel art Cioè davvero Io mi impegno di fare tutte le cose in 3D E voi fate ste cagate Click to put Ma no Allora Allora Non è neanche completato Ma che cazzo è Allora, allora, il mio non c'aveva le braccia Va bene, va bene Però sto coso qui che cazzo è? Quarto Ma come quarto? Dai ma sei in serio, che è questo qua era figo Ma cazzo, ma gli altri facevano cagare Erano tutte delle pixel art Che merda la vita Let's call it in the crossfire Bene ragazzi per questo episodio del build battle è tutto Mi raccomando, io spero che vi sia uscito da questa specie di sfida Perché ragazzi era davvero difficilissimo Usare il mouse invertito ragazzi Davvero, mi raccomando Spero che vi sia piaciuto, daria un 250 mi piace per questo nuovo episodio Ci vediamo nel prossimo video Da Marche è tutto, bella